Nessun peccato sarà mai più grande della misericordia di Dio, lo ha ricordato il Papa nel suo discorso ai Cardinali della Curia Romana, ricevuti in udienza in prossimità delle festività natalizie. La logica divina, aggiunto, non si ferma dinnanzi al male, ma lo trasforma radicalmente e gradualmente in bene. Di qui un lungo affondo. La barca della Chiesa quest'anno ha vissuto momenti difficili, ha detto Francesco, aggiungendo che in questo contesto tanti si sono sentiti perduti, altri l'hanno abbandonata, altri ne hanno aumentato le ferite, altri ancora non nascondono la loro soddisfazione nel vederla scossa. Moltissimi però continuano ad aggrapparsi, con la certezza che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. La Chiesa vive dunque affrontando il peccato interno, gli stessi consacrati che si comportano come padroni e non come beneficiari della salvezza, il dolore del mondo, la morte nelle migrazioni, le torture, la fame e l'ingiustizia, e il male è contro di sé nelle persecuzioni. E l'esempio eroico dei martiri e dei buoni samaritani non fa scordare la controtestimonianza e gli scandali di alcuni figli e ministri della Chiesa. Su questo il Papa si è soffermato a lungo, descrivendo la storia degli abusi commessi dal Re Davide e commentando «Anche oggi ci sono uomini consacrati che abusano dei deboli, ministri che lacerano il corpo della Chiesa, tradiscono Dio, i suoi comandamenti, la propria vocazione, la Chiesa, il popolo di Dio e la fiducia dei piccoli e dei loro familiari». Dinanzi a questi abomini, ha spiegato, «la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti». Una menzione in particolare è stata dedicata alla stampa internazionale che, ha detto il Papa, va ringraziata per aver portato alla luce i casi di abusi. «Ma tutti i peccati commessi da alcuni figli della Chiesa non potranno mai oscurare la bellezza del suo volto», ha aggiunto il Papa, ricordando che il Natale dà la certezza che la vera forza della Chiesa sta nello Spirito Santo, che la guida e la protegge, trasformando i peccati in occasioni di perdono, le cadute in occasioni di rinnovamento, il male in occasione di purificazione e vittoria». Fra le gioie dell'anno che sta per concludersi, il Papa ha ricordato il sinodo sui giovani, i passi compiuti nella riforma della Curia, i nuovi beati e santi, la santità della porta accanto, i fedeli che ricevendo il battesimo rinnovano la giovinezza della Chiesa, la testimonianza delle famiglie, dei genitori, dei giovani che scelgono la vita consacrata e il sacerdozio, dei consacrati che vivono la loro vocazione in fedeltà e di numerosi parroci che offrono ogni giorno il buon esempio al popolo di Dio. La forza di qualsiasi istituzione non risiede nell'essere composta da uomini perfetti, ha ribadito il Papa, ma nella sua volontà di purificarsi continuamente. Il Natale dona ogni anno la certezza che la luce di Dio continuerà a brillare nonostante la miseria umana, la certezza che la Chiesa uscirà dalle tribolazioni ancora più bella, purificata e splendida.